Arezzo, città del Vasari, prosegue il suo programma di celebrazioni vasariane e presenta il Giardino Profondo, omaggio a Giorgio Vasari in occasione dei 500 anni della nascita. Il Giardino Profondo si svolge con la collaborazione della soprintendenza di Arezzo, la mostra Giorgio Vasari, Santo e Bello, promossa dalla Diocesi, di Italia Festival e del Ministero per le Attività Culturali. Il Giardino Profondo si terrà tra il Museo d'Arte Mediovale e Moderna, la Chiesa della Santissima Annunziata, la Sala Grande della Diocesi e la Madonna del Duomo, tutti luoghi legati più o meno direttamente a Giorgio Vasari. Appuntamento dal 14 al 30 luglio. Un evento inaugurale che definire un concetto è troppo poco, che vedrà all'opera più di 30 musicisti, anche il miglior ensemble polifonico a mio parere del territorio, che è il gruppo polifonico del Corradini, un grande mezzo soprano solista e soprattutto il complesso che abbiamo fatto nascere e costituire per le celebrazioni vasariane, l'Arta Cappella Vasari. La soprintendenza mette innanzitutto quel po' di competenza professionale che è una delle nostre ricchezze in fondo, quindi ha collaborato con Giulia e con tutte quante le altre persone che hanno organizzato l'iniziativa per rendere l'iniziativa più legata possibile all'arte, all'arte nel senso dell'arte del Vasari e a questo luogo.